Il verde pubblico di Castel San Giovanni raddoppia. In questi giorni ha iniziato ad essere consegnata una parte dei 2375 alberi che la Fondazione Alberi Italia ha donato alla città valtidonese. Castel San Giovanni fa infatti parte del progetto nazionale Parco Italia, finanziato da Amazon, per la forestazione di 14 città metropolitane. Alle città metropolitane si aggiunge Castel San Giovanni in quanto sede del primo insediamento che Amazon aprì in Italia nel Parco Logistico della Barianella. Prima di ricevere gli oltre 2000 alberi Castel San Giovanni ha dovuto dimostrare di avere i requisiti e cioè aree verdi attrezzate con impianti di irrigazione, strumenti e risorse per mantenere in salute tutta questa quantità di alberi. Le piantumazioni sono già iniziate nel parco del rio Lora, altre verranno fatte a Poggio Salvini, di lato il cimitero comunale e anche nella zona produttiva cade i 3D. Gli oltre 2000 alberi donati a Castel San Giovanni raddoppiano la popolazione verde della città valtidonese. Un censimento di tre anni fa aveva contato 1757 alberi appartenenti al verde pubblico cittadino. Se si sommano i nuovi si arriva a 4000 alberi. Un bel polmone verde ma anche una responsabilità non indifferente per chi si trova e si troverà a mantenere in salute tutto questo patrimonio.